Ok, passamelo. Tieni il telefono. Cambio il posto. No, così. Ok, vai, tieni il telefono. Questo senso. Ok, bene, sono arrivati i fagottini natalizi, mini drop natalizio con solo quattro grafiche. Ci sono le due comuni che sono questa e questa, sti cazzi. E questa, ok. Poi abbiamo la rara che se non sbaglio è questa. Drop natalizio, quindi tutti i temi natalizi. Questo dal video Un Natale molto brando dell'anno scorso. E come potete vedere sono tutti incartati in questi meravigliosi pacchettini, fagottini natalizi. appunto sono natalizi. Il sito è aperto, è nel link in descrizione e potete già comprare tutti i fagottini che volete. Questa è la leggendaria, invece. Foto di famiglia fatta da mia mamma l'anno scorso per le cartoline di Natale. Di queste ce ne sono solo il 10%. Invece di quelle rare ce ne sono il 30% e delle comuni il 60%, ok? Voi ordinate, non sapete cosa vi arriva. Come al solito, sempre stessa storia dei fagottini. Comprateli tutti, bella vecchia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.